Stavamo guardando la televisione, abbiamo sentito gridare, urla disperate, cioè sono uscito non capivo se era un incidente o se c'era magari qualcuno che stava litigando, finché dopo la signora si è messa a gridare chiamate i vigili, chiamate i pompieri, chiamate i pompieri e allora la moglie ho detto a tu chiami i pompieri e vado a vedere cosa è successo. E che cosa ha visto? Quando sono arrivato, io non sapevo niente cosa c'era, ero terrorizzato di sentire delle grida dentro, quando sono arrivato e che ho visto i bambini in braccio ai genitori, già mi sono sollevato, ero più tranquillo, cioè i genitori erano disperati perché ho perso la casa però insomma i due cani erano fuori, i bambini erano a posto. E li avete ospitati a casa vostra? Sì perché erano praticamente in mutande, abbiamo preso due coperte e li ho tenuti qua, mentre i genitori sono tornati di là, i bambini sono qua, si sono tranquillizzati, spaventati, sotto shock, come li ha visti i genitori? I genitori sì, molto spaventati, cioè spaventati un po' di tutto, i bambini sono bambini, si sono tranquillizzati subito, i genitori sì, tra il pianto, la rabbia e tutto, cosa... Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!